Tuttavia, benché vegeto ancora, il vecchio si vide presto costretto a metterla a parte delle faccende di casa e per due anni di seguito le fece ordinare il pranzo in sua presenza. Le insegnò poi man mano i nomi e la superficie dei vigneti e delle fattorie e al terzo anno l'aveva così bene iniziata ai suoi criteri da varo che si indusse a lasciarle le chiavi della dispensa e ad incaricarla dell'amministrazione domestica. Passarono così cinque anni di una esistenza monotona in cui le stesse cose vennero di continuo a ripetersi con la regolarità cronometrica della vecchia pendola. Tutti conoscevano ormai la profonda mestizia della signorina Grande, ma dalla sua bocca non sfuggì parola che potesse farne sospettare il motivo. I tre, cruciò solamente qualche loro amico, frequentavano la casa, divertendosi la sera a giocare al whist con lei. Poi nel 1825 il vignarolo, accasciato dalle infermità, credette utile palesarle il segreto delle sue ricchezze immobiliari consigliandola di ricorrere al notaio in caso di incertezza. Sul finire di quello stesso anno, già oltre la ottantina, fu colpito da paralisi per cui rapidi progressi il signor Bergerin lo giudicò belle spacciato. All'idea di rimanere fra breve e sola nel mondo, Eugénie sentì più forte l'ultimo vincolo di affetto che la legava al padre, e fu sublime di abnegazione e di cura verso di lui già mezzo rimbambito, ma sempre invasato dal demone dell'avarizia. Fin dal mattino si faceva trascinare sulla sedia presso il camminetto della sua camera di fronte alla porta dello studio, certo pieno d'oro, e vi restava immobile, fissando con ansia alternativamente quelli che lo visitavano e il robusto uscio foderato di ferro. Voleva essere informato delle cause del meno mormore e con grande meraviglia del notaio riusciva a percepire gli sbadigli del cane giù nel cortile. Da quella stupidità apparente si destava nei giorni e nelle ore in cui si dovevano riscuotere i fitti, chiudere i conti con i campagnoli e rilasciare le ricevute. Allora faceva spingere il seggiolone a rotelle fin presso l'uscio dello studio che la figliuola apriva. Rimaneva lì ad assistere finché ella avesse collocato i sacchetti del denaro gli uni sugli altri e tirato il chiavistello. Poi riprendeva tacito il solito posto, con la preziosa chiave in una tasca del panciotto, ove di quando in quando la toccava. Il notaio suo vecchio amico sapeva bene che se Charles Grandet non tornava la ricca erede avrebbe sposato il nipote di lui e però non lesinava cure e servigi. Veniva ogni giorno a prendere gli ordini dell'infermo, si recava per suo incarico a foafon, sulle terre, sui prati, sulle vigne, vendeva i raccolti, ne ritirava oro e argento e si univa in segreto a quello già accumulato. Alla fine giunsero i giorni estremi in cui la forte fibra del vignaiolo si trovò alle prese con la dissoluzione. Vole rimanere seduto accanto al fuoco innanzi alla porta dello studio. In vano si cercava di avvolgerlo nelle coperte e respingeva tutto dicendo alla domestica «chiudi, chiudi là che non mi rubino». Gli ultimi lampi di vita parevano concentrati negli occhi ed appena poteva aprirli era un rapido avvolgerli angosciosi verso la stanza che chiudeva i suoi tesori, mentre con voce tremante d'un panico interno ripeteva alla figliuola «vi sono? Vi sono?» «Sì, babbo». «Va dall'oro! Mettimi dell'oro davanti!» Eugenie gli disponeva sul tavolino dei Luigi e per ore intere egli li fissava, simile a un bambino che cominci a distinguere i primi oggetti. Un sorriso triste gli sfuggiva. «Come mi riscalda!» esclamava talvolta col viso illuminato da un'area di beatitudine. Quando comparve il curato della parrocchia per amministrargli i sacramenti, gli occhi atoni fino all'allora si rianimarono alla vista della croce, dei candelieri e della pila d'argento. Non appena il sacerdote gli appressò alle labbra il crocefisso d'argento dorato, tentò un orribile gesto per afferrarlo e fu l'ultimo suo sforzo. Non riuscendo più a vedere Eugenie, che pure gli stava inginocchiata dinanzi e gli bagnava di lacrime la mano gelida, la chiamò. «Beneditemi, babbo!» dissella. «Abbi cura di tutto e me ne darai conto laggiù!» rispose il padre, dimostrando con l'ultima sua parola che il cristianesimo è la religione degli avari.